La possibilità a Monza di rigiocare i palloni in fase fondamentali. Allora, siamo qui con Davide Brunetti, una vittoria incredibile di Monza in rimonta dopo il terzo set. In tanti potevano darvi spacciati. Cos'è successo poi? Ma niente, semplicemente abbiamo continuato a giocare. Sapevamo che era dura, ma diciamo che da una parte non avevamo niente da perdere. E' stata una settimana movimentata, quindi sapevamo di dover mettere ancora di più. E niente, sono felice, abbiamo ribaltato la partita. Nessuno ci sperava, forse, noi però sì. Quindi abbiamo lavorato per questo e niente, è arrivata la vittoria. Una bella prestazione anche a livello individuale per te che stai sostituendo Federici in questa fase. Oggi ha girato però tutta la squadra. Sì, 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 oggi abbiamo giocato proprio tutti bene. Magari chi aveva un momento di difficoltà è stato cambiato, poi era inserito. Comunque abbiamo giocato tutti bene da vera squadra e è quello che cercavamo. Quindi siamo molto contenti. Cosa è stato decisivo stasera? Ma secondo me è la pressione che abbiamo messo. Loro hanno iniziato a giocare forte. Nimira ha battuto davvero forte. Però siamo rimasti sempre lì, abbiamo messo pressione anche noi. Abbiamo difeso tanto e siamo stati forse decisivi nei momenti giusti. E allora salutiamo, ringraziamo, auguriamo in bocca al lupo per il progetto della stagione a Davide Brunetti. Crepi il lupo. E intanto ci prepariamo.